Primo giorno di scuola, stando almeno al calendario della Regione Campania, noi siamo andati in giro per la città, per le varie scuole, per tastare un po' qual è il sentimento che si prova vivendo un giorno particolare a seguito di tanti mesi di dad, questa volta si torna in presenza. Siamo all'interno dell'Istituto Leonardo da Vinci di Napoli con la dirigente scolastica per comprendere un po' quelle che sono le problematiche, ma direi soprattutto quelli che sono ancora un po' i dubbi legati al Green Pass per chi viene dall'esterno e per i docenti. Il giorno è andato bene, l'ingresso era già regolamentato come negli anni passati, i dubbi restano perché l'utenza esterna ha ancora difficoltà a voler sottoporsi al controllo del Green Pass, non i docenti chiaramente, non il nostro personale ATA, ma parliamo di genitori, parliamo di fornitori, parliamo di ditte esterne.